Quest'anno, dopo anni passati al mare, io e la mia famiglia abbiamo deciso di trascorrere le vacanze estive in montagna. Oggi il mio figlio abbiamo deciso di fare una passeggiata, mentre mia moglie è rimasta a casa. In questa zona, anche se siamo vicini a un centro abitato, il telefono non prende, quindi non riesco a far sapere a mia moglie dove mi trovo e non riesco a comunicare con lei. Mi sono sempre chiesto come avrei potuto comunicare in caso di necessità. I miei amici mi ha consigliato Garmini Rich Mini. In questo strumento ho la sicurezza di essere sempre in contatto con qualcuno e di poter richiedere i figli di soccorsi in caso di necessità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.